...e generazioni che devono guardare al mondo in modo migliore. Come ci dica? Ragazzi straordinari, oggi abbiamo fatto una chiacchierata lunghissima, doveva essere di pochi minuti, è stata lunghissima, hanno fatto delle domande intelligenti, interessate, hanno ascoltato la risposta, abbiamo dialogato. Se loro sono un futuro, il futuro sarà migliore. Cosa si aspetta? Oggi ne abbiamo parlato. Loro hanno detto che io sono un supereroe, ma non è vero. Ho detto bene a loro che i supereroi sono loro ogni singolo giorno. Ogni giorno che invitano una persona con disabilità a mangiare un gelato, che la vanno a trovare, che la portano al cinema. Ciascuno di noi può essere supereroe. Basta amare gli altri e essere vicino agli altri. Cosa possiamo fare per avvicinare le persone di nuove generazioni alla disabilità, alla diversità? Non bisogna fare niente, bisogna essere normali, innamorati della vita. Perché non bisogna fare cose artefatte. Bisogna pensare che le persone sono tutte una risorsa e tutte uno straordinario mondo. Ed è bellissimo scoprire questi mondi. Dove la possiamo venire a trovare? Allora, i due ristoranti attualmente aperti sono uno a Monza e uno in provincia di Milano. I ragazzi fanno le pizze, le servono e le pizze sono straordinariamente buone. Molti dicono, siamo veniti per la bontà del progetto e siamo tornati per la bontà della pizza. Ci vuole dire quale progetto, velocemente due battute? Pizza Out è un ristorante completamente gestito da persone autistiche. Ci dicevano che sarebbe stato impossibile fare questo ristorante. Noi non li abbiamo ascoltati, li abbiamo fatti due.